salve a tutti prima di iniziare il video vi invito a guardare il video fino alla fine a lasciare un like ad iscrivervi a guardare gli altri video ho già trattato del problema dei testimoni di geova questa volta vorrei parlarvi del cosiddetto studio biblico una volta molti anni fa su un forum parlavo della questione dell'interpretazione della bibbia e vari utenti mi consigliavano di rivolgermi ai tdc perché secondo loro erano quelli che conoscevano la bibbia meglio di tutti io risposi dicendo che non era vero che la loro bibbia è manipolata che loro prendono quello che conviene a loro e altre cose che ho già espresso nei video precedenti anche se moltissime cose all'epoca ancora non le sapevo le ho sapute abbastanza di recente ma ne sapevo abbastanza da non cascare in quella trappola una ragazza tdc rispose indignata dicendo che erano tutti luoghi comuni che non era vero nulla di quello che dicevo anzi molte persone usavano la bibbia cattolica per fare lo studio biblico e sottolineava il fatto che parlare con i testimoni di geova non significa studiare la bibbia con loro a breve vi mostrerò che in realtà è la stessa cosa o quasi a seconda di quale proclamatore vi trovate davanti infatti quello è non è né uno studio nemmeno è biblico la bibbia non viene mai toccata prima veniva presa raramente oggi hanno la loro app dove hanno tutte le loro pubblicazioni e anche la bibbia visto che ce l'hanno ogni tanto la consultano in realtà nel cosiddetto studio biblico viene letta e ripetuta a pappagallo il famoso libricino che un tempo era giallo dorato e si chiamava cose insegnaralmente la bibbia ora è nero nel video dove parlo della mia esperienza con i tdc raccontavo che quel ragazzo usava con me quando veniva alla porta di casa mia proprio quel libricino giallo non lo so se lo fanno con tu ma grosso modo quando vengono alla porta non fanno nulla di diverso se commentano un'altra pubblicazione o se prendono le citazioni della bibbia da questa pubblicazione cioè lo studio biblico come lo chiamano loro lo stavo già facendo senza accorgermene tutte le settimane anche se non eravamo seduti a un tavolo quindi quella ragazza di cui vi parlavo che mi aveva risposto nel forum si sbagliava perché nella pratica parlare con i testimoni di geova per strada o quando vengono alla porta quando si leggono e si commentano le pubblicazioni è la stessa cosa che fare lo studio biblico secondo loro quindi studiare la bibbia in realtà significa leggere ripetere a pappagallo e imparare quello che c'è nelle loro pubblicazioni la bibbia è decisamente secondaria e ribadisco che non è nemmeno uno studio non è così che si studia per studiare qualcosa si prende il libro da studiare lo si apre lo si legge lo si rilegge ma ovviamente ogni argomento necessita un metodo adatto ad esempio quello storico critico e filologico basandosi sulle lingue originali e le edizioni critiche dei testi originali io non dico che per entrare dentro una religione bisogna diventare tutti filologi eseggeti e teologi ma almeno la bici non deve mancare se uno deve andare ad evangelizzare e insegnare la bibbia però deve secondo me avere una formazione eseggetica tale da saper leggere e capire la bibbia basandosi sui testi originali e le lingue originali anche se rimangono le differenze interpretative tra una religione e un'altra ma il problema è che tutti i testimoni di geova attivi sono anche proclamatori come minimo e vanno tutti tranne gli inattivi ovviamente a proclamare vorrei fare un paragone con altri due testi che trattano della comprensione della bibbia uno è pregare la parola di enzo bianchi che introduce allo lezio divina il metodo con cui i monaci leggono la bibbia e pregano su di esse da 2000 anni anche se deriva dai rabbini fin dall'antico testamento l'altro è come interpretare un testo biblico di bruno corsani un professore di fede evangelica che tratta nello specifico di come funziona l'esigesi biblica in ambito accademico e universitario la differenza tra i due non sta nel fatto che enzo bianchi è cattolico e corsani è protestante ma che il libro di bianchi è più spirituale cioè si affida più che altro al fatto che lo spirito santo dovrebbe guidare il lettore a comprendere il testo mentre l'altro testo va più nello specifico a vedere come esaminare il testo per comprenderlo nel contesto tenendo presente i generi letterali l'intenzione del testo e molti altri aspetti dell'esigesi anche se ammette che purtroppo non ha potuto dedicare molto al problema dell'attualizzazione cioè a cosa dice il testo a noi che viviamo nel 2019 ma perlomeno tiene in considerazione il fatto che i testi biblici furono scritti in un determinato contesto storico da parte di persone collocate in un contesto storico e destinate a persone collocate in un contesto storico a modo loro anche i tdc fanno attualizzazione quando ad esempio tirano fuori la questione delle trasfusioni oppure il divieto di fumare dato che sono due cose che non sono scritte nella bibbia anche il libro di bianchi tiene conto di queste cose ma le accenna appena secondo me i due testi si completano a vicenda solo che la lezione divina secondo me fatta da soli senza la guida di un esperto come un monaco un teologo non è adatta ai non credenti o a chi sta facendo un cammino di fede a chi ha dubbi perplessità e domande varie sulla fede e sulla bibbia ma la differenza sostanziale tra questi due libri che ho preso in esame e il libricino dei tdc è che i primi due sono metodi per leggere e comprendere le scritture i quali non danno risposte vi aiutano a trovarle da soli loro invece pretendono di farti leggere il loro libricino che dovrebbe sintetizzare tutta la bibbia per argomenti a margine del testo ci sono delle domande le cui risposte le si trovano nel testo che c'è sopra praticamente si ripetono pappagallo le cose scritte nella loro pubblicazione e non solo le domande sono preconfezionate e le risposte anche se si risponde diversamente non va bene lo studio non fa avanti non è un dialogo critico e costruttivo devono convincerti a tutti i costi state ritirarti ammesso che smettano di cercarti per fare lo studio perché loro non si arrendono tra l'altro ho scoperto di recente che esistono pubblicazioni interne solo per chi è testimone di geova sia le riviste ma anche libri anche grandi giuseppe longa ne ha fatti vedere alcuni di questi libri altri invece compaiono in un vecchio video di matteo montesi dove lui va in una casa abbandonata piena di pubblicazioni il video in questione è quello dove squilla il telefono all'inizio del video è un video abbastanza strano e un po inquietante in pratica i testimoni di geova continuano ad approfondire tanto per dire la bibbia continuando a leggere le loro pubblicazioni in particolari modo quando devono andare in sala a leggere e commentare i passi biblici devono attenersi a ciò che c'è scritto nella pubblicazione guai a dire altro questi discorsi tenuti anche dai bambini vengono preparati a casa e poi vengono proclamati davanti a tutti e se dici ciò che devi dire ti approvano questo è micidiale quando si tratta di bambini che devono imparare a dire ciò che devono dire e non altro non fuoriuscire dal protocollo altrimenti sono guai sarebbe anche lecito in teoria scrivere in un libricino quali sarebbero le loro posizioni con i relativi riferimenti biblici ma è ben diverso istruire le persone a leggere la bibbia per comprenderle in autonomia dal dare a loro non solo risposte preconfezionate ma anche domande preconfezionate ad esempio la chiesa cattolica romana ha il catechismo ufficiale ma non viene a dirti che quello è uno studio biblico e nemmeno viene a dirti che quella è una guida per leggere la bibbia o una sinossi per argomenti del contenuto della bibbia te lo dici apertamente che la bibbia non è l'unica fonte di autorità della chiesa ma soprattutto viene detto chiaramente che quello è il loro catechismo tu sai che quello è un contesto che esprime il punto di vista cattolico romano sulla religione non uno studio obiettivo e critico accademico filologico eccetera sulla bibbia quello dei tdc non ha uno studio biblico ma una catechesi sulle loro dottrine o meglio è l'inizio dell'indottrinamento proporlo come studio biblico è disonesto e ingannevole perché da uno studio io mi aspetto di esaminare la bibbia per verificare ogni cosa loro invece non fanno questo nelle pubblicazioni dei tdc riferimenti sono presi fuori dal contesto dalla loro bibbia manipolata e scelti apposta per confermare le loro teorie vengono ovviamente selezionati evitando quelli che a loro non convengono ma su questo argomento ho già fatto un video quindi i tdc non sono formati per poter leggere e capire la bibbia in autonomia cercando di capire da soli ciò che essa dice ma si tratta di indottrinarli affinché essi credano esattamente in ciò che il corpo direttivo dice io da piccolo credevo che effettivamente i testimoni di geova avessero veramente studiato al bibbia come in teoria anche i protestanti solo che la differenza starebbe nei punti di vista che umanamente non si possono eliminare quando si fa il cosiddetto studio biblico con un testimone di geova infatti egli farà di tutto per convincerti che la loro interpretazione è quella giusta useranno argomenti preconfezionati e stereotipi ad esempio sulle trasfusioni di sangue ti ripeteranno a pappagallo che se il medico ti proibisse di bere alcol te lo inietteresti nelle vene se non ti convincono non ti lasciano perdere non è come quando citofonano a casa non si arrendono da questo punto di vista non sono diversissimi dai venditori porta a porta o da quelli del call center useranno qualunque mezzo come video pubblicazioni varie l'importante è non usare la bibbia è davvero inutile provare a contro argomentare con la bibbia alla mano specie se si tratta di usare i testi originali dizionari di greco o ebraico o le interlineari loro vi diranno che la bibbia è semplice e chiara soprattutto la loro traduzione del 2017 che non c'è bisogno delle lingue originali o dei testi originali eccetera e che gesù aveva scelto persone semplici come discepoli raramente persone istruite e che non dovrebbe essere necessario essere colti per essere salvati e che ogni difficoltà dubbio problema sarebbero stati causati dagli apostati che avrebbero messo confusione ma come vi ho fatto già vedere questo per loro vale solo quando gli conviene se non siete interessati ditelo chiaramente sperando che vi lasciano perdere definitivamente è inutile sperare che siano loro a capire che non c'è alcun modo di convincervi né tantomeno che si convincano di sbagliare ovviamente questo è il punto di vista che posso dare io basandomi sulla mia esperienza personale con i testimoni di jeova di cui ho anche parlato negli altri video se vi interessa saperne di più vi consiglio di vedere anche gli altri video per ora è tutto alla prossima